e rientriamo in studio con due graditissimi ospiti oggi ho il piacere di presentarvi il sindaco del comune di mattinata Michele Biceglia e il suo assessore all'industria turistica Paolo Valente buongiorno e bentrovati buongiorno a tutti buongiorno a tutti la loro presenza qui non è casuale ed è strettamente legata con la rubrica del martedì sulle orchidee spontanee del Gargano perché mattinata tra le tante qualità che ha ha il pregio anche di essere la città delle orchidee dico bene signor sindaco? Beh sì benissimo intanto grazie per questo spazio per questa opportunità per raccontare di questa unicità che attraversa il nostro territorio ed in particolare su mattinata dove abbiamo una alta concentrazione di queste di queste varietà di orchidee spontanee è un momento che accomuna tutte le primavere del Gargano ed in particolare la nostra permettendo a tanti appassionati di botanica e a tanti turisti di raggiungerci e godere delle bellezze ecco di di quello che ci presenta uno scenario sempre inedito sempre affascinante ma caratteristico appunto della nostra vicenda territoriale. E poi da questo punto di vista siete davvero molto bravi e quindi il piacere per noi è doppio nell'avervi come nostri ospiti perché le buone pratiche è giusto che vengano anche condivise per creare un effetto moltiplicatore del valore che generano. Caro Assessore per generare valore però bisogna essere consapevoli delle ricchezze dei propri territori. Certo la consapevolezza è lo start per uno sviluppo territoriale che sia armonico e duraturo. Mattinata ha la consapevolezza di avere di godere di questo patrimonio naturalistico che sono le orchidee però al tempo stesso da tanto tempo sentiva la necessità e il bisogno di un momento di celebrazioni per questo elemento distintivo del nostro territorio. Ecco perché nasce questo primo festival dedicato alle orchidee dal nome pop, dal nome popolare Orchideis nel fiore del Gargano proprio per trasmettere il messaggio che le orchidee, la bellezza delle orchidee non è riservata solo agli esperti, ai botanici naturalisti ma a tutta la gente a cui piace il bello, a cui piace passeggiare per i sentieri del Gargano. Quindi una quattro giorni a mattinata dal 22 al 25 aprile in cui la regina del nostro territorio dal punto di vista botanico, l'orchidea, sarà celebrata con tanti momenti di diversa natura da momenti ludici, momenti enogastronomici, momenti scientifici, un appuntamento per tutti, per tanti. Quindi l'invito sin da subito, sin da adesso senza aspettare il finale di questo appuntamento televisivo e di venirci a trovare in quei giorni. Bene, noi è un invito che non solo accogliamo con piacere ma che facciamo nostro e rilanciamo su quest'emittente perché come voi crediamo nella bellezza del creato e nell'importanza di tutelare questa bellezza e di condividerla con gli altri. Bellezza e consapevolezza appunto che ci devono aiutare a vivere i nostri territori e a godere delle bellezze dei nostri territori in maniera anche intelligente e lo stesso motivo per cui i più attenti avranno notato che in apertura di ogni Just Today tutta la settimana appunto c'è l'invito a partecipare a questo straordinario evento che avrà luogo ad aprile a mattinata. Orchideis come abbiamo sentito e come stiamo vedendo alle mie spalle dai video che sono stati realizzati per rilanciare questo evento, per lanciare questo evento. Sindaco, io in tutta onestà non riesco a non farvi complimenti per lo straordinario lavoro che state facendo non soltanto su questo versante ma un po' su tutti i fronti che riguardano una città turistica come la vostra e mi viene come dire spontaneo anche richiamare il percorso che ha espresso la vostra, che ha visto nascere insomma la vostra amministrazione comunale perché siete un'amministrazione giovanissima con una genesi molto particolare. Io approfitterei di questo spazio anche per raccontare questa bellissima storia che possa essere di ispirazione ai tanti che ci seguono. Ringrazio per questa domanda perché tanto del lavoro che noi stiamo facendo va proprio in questa direzione ossia quella di rinverdire il senso di appartenenza di una comunità, la nostra, che ha scontato in un periodo non troppo remoto una vicenda particolarmente delicata che l'ha vista al centro di una di una dinamica che ai noi attraversa tutto il territorio del Gargano. Noi non ci siamo mai nascosti dietro diciamo una comunicazione che non facesse trasparire queste difficoltà, anzi le abbiamo portate a fattor comune per rafforzare questo messaggio di entusiasmo, di trasparenza, di buona e sana amministrazione condivisa con la comunità e con i cittadini. Tante sono state le nostre prime volte in questi primi anni di amministrazione. Mi piace sottolineare, sottolinearne una, proprio perché parliamo di turismo, quest'anno mattinata per la prima volta nella sua storia, ha presentato i principali appuntamenti turistici alla BIT di Milano cercando di mandare un messaggio forte, autorevole non solo al mercato del turismo, ma anche alle comunità limitrofe e lontane, per far sì che appunto anche in termini di narrativa la nostra comunità ritorni a splendere di luce propria, ritorni lì dove merita di stare, proprio in termini di percezione da parte di chi ogni anno arriva copiosamente sul nostro territorio. mattinata appunto, continuando a parlare di prime volte, è riuscita e di questo dobbiamo rendere atto anche alla grande capacità dei nostri operatori turistici di saper ospitare e di saper raccontare le bellezze del nostro territorio. E per la prima volta è entrata nella top 20 delle presenze turistiche di Puglia con circa 175 mila presenze, un numero davvero importante, un risultato altrettanto importante, notevole, che però ci investe sì di soddisfazione, ma anche di quella giusta responsabilità che ci vede oggi a presentare questo festival che come ben detto dall'assessore poco fa, per la prima volta colloca questo patrimonio di biodiversità in una modulazione che da troppo tempo aspettava e che non poteva essere ricondotto ad una semplice occasione di stare insieme nel paese, ma che doveva essere e ambisce ad essere patrimonio comune. Bene, io so per esperienza che in questi anni gli eventi che avete organizzato sono tanti, quindi sicuramente ce ne saranno ancora molte altre di date da segnare, di appuntamenti da vivere, però ecco mi vorrei rimanere focalizzato sull'evento imminente di Orchideis che abbiamo detto avrà luogo a mattinata 22 al 25, ecco c'era la grafica che ce lo ricordava e quindi ecco lascerei all'assessore all'industria del turismo, l'ultimo spazio per richiamarci in questa città così bella, così viva, per poter sperimentare da dentro tutto quello che di bello state creando. Ah quindi mi stai chiedendo uno spot per Orchideis, io lo faccio molto volentieri. Allora ripeto, 4 giorni di appuntamenti, appuntamenti sia all'interno del nostro borgo ma anche soprattutto lungo i sentieri che ospitano, che vedono crescere, nascere la nostra inflorescenza, ossia spontanea l'orchidea. Quindi avremo delle camminate che tutti i giorni raggiungeranno l'apice di Monte Sacro, sentiero lungo il quale nascono le nostre orchidee, ma poi avremo anche eventi enogastronomici lungo corso matino, avremo spettacoli serali, avremo un progetto che parte già subito dopo Pasqua all'interno del nostro istituto comprensivo e poi avremo dei momenti di incontro e riflessione sul tema della biodiversità ma anche del turismo lento e del turismo smart. Quindi avremo due appuntamenti convenistici a mattinata in quei giorni. L'ultima cosa che ci tenevo a dire è che il principio che genera i nostri eventi a mattinata è quello dell'extrasagionalizzazione. Quindi noi tendiamo a espandere, ad allungare il periodo in grado di attrarre turisti a mattinata creando degli eventi quali prodotti turistici a tutti gli effetti. Quindi Orchideis ha l'ambizione di diventare sin dal primo anno il prodotto turistico più importante della stagione primaverile per poi passare al periodo estivo quando mattinata destinazione mare è conosciuta in tutta Italia, in tutto il mondo, però anche il contenitore estivo merita degli eventi e un cartellone di eventi importante che è mattinata straordinaria che culminerà il 18 agosto con la terza edizione di mattinatesi dell'anno. Quindi noi assegneremo dei premi a dei mattinatesi che quest'anno si sono distinti nell'ambito del cinema. Poi l'evento principale dell'autunno che è Fextra, la festa dell'extravergine di Oliva e poi per il Natale, la festa più bella dell'anno, il consueto appuntamento con il mattinatale. Quindi mattinata una destinazione turistica adatta a tutte le stagioni, tutti i periodi dell'anno e in ogni periodo abbiamo l'evento calamita per attrarre i turisti e i visitatori. E noi siamo felici di tutto ciò e grati del lavoro che state facendo che è sicuramente un bellissimo esempio per tutto il territorio per cui speriamo di avervi nuovamente insieme a noi per raccontare queste ed altre storie di bellezza su un territorio che di bellezza ne ha tante che merita di essere raccontata. Grazie ancora.